Lo Specchio, con Tamborini Vini e la sua Vinoteca Alamone. Un'esperienza unica. Tamborini Vini, una storia di famiglia dal 1944. Buonasera, per fortuna non siamo su una vecchia terrazza davanti al Golfo di Suriento, però è vero che da questo studio noi possiamo spingerci in ogni dove. Lo faremo questa sera con l'ambasciatrice di Svizzera in Italia, Malta e San Marino. Andare a Roma è il coronamento di una carriera straordinaria, e straordinaria lo è senz'altro la carriera dell'ambasciatrice Monica Schmutz-Kirgelz. Buonasera e benvenuta. Grazie mille, buonasera a lei e a te le spettature. Ho indovinato la musica ma ho sbagliato il cognome, la pronuncia del cognome. O ci sono arrivato più o meno vicini. Però mentre sto ascoltando questa magnifica canzone mi dico ma con chi ha parlato, con i servizi segreti spizzeri? Perché oramai non è molto conosciuto che mi piace molto questa canzone. Ma perché questo Kupitker per Lucio Dalla per questa canzone? Perché è bravissimo. Secondo me è la cosa che spesso accade ai svizzeri tedeschi, anche ai tedeschi, dai tempi di Goethe, è questo desiderio dell'Italia, dell'italianità, eccetera. Poi io trovo che questa canzone sia di una bellezza. È incredibile. Ma io dai servizi segreti ho avuto un'altra informazione. che lei non solo ha una grande passione per Lucio Dalla, ma anche per Andrea Bocelli. Io con te partirò, che è un altro grande pièce de résistance, è un grande pezzo. È un grande pezzo, forse è quasi un po' kitsch? È un po' kitsch. È un po' kitsch, vero? Siamo d'accordo su quello? No, con te partirò è un po' una cosa che trovavo molto significativo per la mia famiglia, perché io sono stata questa appunto che ha sempre deciso la vita degli altri tre membri di famiglia e questo con te partirò mi sembrava molto romantico, che loro erano d'accordo di spostarsi ogni quattro anni. Sì, effettivamente. E allora la grande domanda per la mamma, per l'ambasciatrice, è qual è la haimve, qual è la vera casa per un ambasciatore che deve viaggiare sempre. Lei ha viaggiato in Turchia, ha viaggiato ovviamente in Israele, è stata in Libano, ora a Roma, insomma fa parte del gioco ovviamente, però il prezzo poi lo pagano anche gli altri. Questo è vero, sì. Ma la sua casa del cuore qual è? Davesco. Davesco? Eh sì, sono una basilese che ha scelto di vivere a Davesco. Infatti nel curriculum vite che ci è stato fornito dal Dipartimento federale degli affari esteri si dice sì, Monica Schmutz-Kirgötz, però me lo devi dire come si pronuncia correttamente. Correttamente sarebbe Kyrgös. Sì, ma questo I senza dot, senza il puntino che diventa un po' chi lo sa. Lei è bravissima. Benissimo, mi conforta, mi conforta. Infatti questo curriculum vite dice, sì, originaria di Basilea, attenzione però, non Basilea, città, ma Münchenstein, che adesso Münchenstein è diventato famosissimo, soprattutto per un motivo purtroppo. Roger Federer ce l'ha affacciato orfani nel tennis e è un paesino che però ha fornito dei personaggi importanti. ha fornito al mondo Roger Federer, alla nazionale svizzera Muratjöcken e alla diplomazia Monica Schmutz-Kirgötz. Noi abbiamo avuto ospite, è simpatico che partiamo dalle origini, dalla famiglia, perché abbiamo avuto ospite quello che tecnicamente è proprio il suo chef, il suo capo, nonché nell'anno presidenziale, presidente della Confederazione Ignazio Casis. Lui diceva che l'arte della diplomazia e della negoziazione l'ha imparata in casa un bagno tre sorelle. Uno è vero che è un po' diplomatico, lo sente già da bambino, ci sono già i bambini un po' diplomatici e lei, ambasciatrice, com'era da ragazzina? Non lo so se ero diplomatica, ancora oggi mi dicono che sono forse una delle diplomatiche meno diplomatiche. Infatti, che parla chiaro, che non le manda a dire. Ogni tanto, quando posso sì, quando non posso ovviamente no. Adesso no, io purtroppo quasi devo dire ero figlia unica, dunque non c'era la battaglia davanti al bagno, che tra l'altro l'ha puntata con il mio capo giusto, il presidente della Confederazione, l'ho guardata, mi è molto piaciuta, è piaciuto anche il fatto che lui ha sottolineato ancora una volta la pluralità, che a lui è così caro anche in questo anno presidenziale, nel quale tra l'altro con l'Italia ha tanto da fare. Io da bambina piuttosto un po' sola, essendo un'unica figlia, e sempre questo desiderio di andare nel mondo. Il primo desiderio di professione era astronauta. Però si immagini in questi tempi, mi hanno detto, sei anche carina però, sei bambina. bambina ancora non c'è. No, ma mi hanno detto, sei bambina, questo non è per le donne, questo l'ho sentito spesso, che non è per le donne. Ma anche in casa le dicevano, non è per le donne. In quale contesto familiare è cresciuta? Non troppo. La piccola Monica? Eh, direi abbastanza, bah, un po' classe media, svizzera, il papà ovviamente che lavorava per la farmaceutica, la mamma che lavorava, che era molto raro, è cosa che comunque mi piace sottolineare, che sono, adesso vi lascio fare i calcoli, però sono nata ancora in un tempo quando le donne non avevano diritti in Svizzera. Questo è anche una cosa da non dimenticare. Infatti questo è un tema caro, a me ha sorpreso che l'ambasciatrice Schmutz-Kirgoetz alla domanda, lei è femminista? In un paio di occasioni ha risposto sì, mi sento femminista, però mi chiedo, in un contesto svizzero, diplomatico svizzero, dove si tende sempre a smorzare i toni, l'ismo invece radicalizza un po' i toni. Lei si smarca effettivamente dallo stampino del diplomatico un po' noiosetto effettivamente, quindi c'è possibilità di far crescere un proprio carisma, di smarcarsi, di essere più se stessi? Assolutamente. Innanzitutto non ci sono diplomatici svizzeri, noiosi, vorrei dire. Ecco, brava, difesa d'ufficio. Ecco, assolutamente. E poi ho dei collaboratori maschi, che sono una generazione dopo di me, che mi dicono non essere femminista, o femministo non c'è, però femminista anche come uomo, oggi come oggi non si può. Dunque è normale, lo dicono anche all'ONU, lo dicono in tanti, lo dicono anche attori, attrici, secondo me, è questo riconoscimento del fatto che only mixed teams, dunque solo se si lavora insieme, si hanno dei output molto più grandi. Io sbaglio se dico che le donne hanno forse nell'arte diplomatica una capacità maggiore rispetto agli uomini di leggere fra le righe, e spesso è fra le righe dove stanno le verità. E' corretto? E' correttissimo. Io sono molto contenta che lo dica lei, perché se lo dico io, non è che sono molto centile con i miei colleghi maschili, però effettivamente, quando si hanno delle conferenze o anche one to one con delle persone, forse la cosa è un po' difficile, eccetera, è vero che leggere tra le righe o capire il non detto forse è più facile per una donna che per un uomo. E sempre non vorrei generalizzare, perché poi ci sono delle eccezioni dappertutto, dunque generalizzare trovo molto pericoloso. Quindi ovviamente l'invito è far lavorare insieme uomini e donne, su questo non ci sono dubbi. Rimane un fatto statistico, sui 110 circa capi missione del Dipartimento federale degli affari esteri, nel mondo le donne rimangono una minoranza. Lei ha detto, io sono nata quando le donne ancora non potevano votare, però è vero che la Svizzera poi ha fatto passi da giganti. Ma il potere comunque rimane ancora, a distanza di 51 anni dal suffragio femminile, rimane ancora saldamente in mano agli uomini. Secondo me no. Appunto lei l'ha detto, la Svizzera ha fatto passi giganti, ma veramente giganti. Non penso che ci sia un altro paese che in 51 anni ha fatto i passi che abbiamo fatto noi. Poi il potere economico, probabilmente, se guardiamo un po' il landscape svizzero è ancora predominantemente maschile. Politicamente no, perché una volta c'era un Consiglio federale con quattro donne e tre uomini. Adesso parlando della diplomazia stiamo arrivando. Mentre dieci anni fa eravamo a Kinshasa, a Wellington, in posti non veramente centrali, adesso siamo a Bruxelles, siamo a Moscou, siamo a New York, siamo a Roma, dunque in tanti posti probabilmente con più visibilità. E poi siete a Beirut, lei è stata dal 2017 al 2021 a Beirut e io ho visto un'immagine per certi aspetti quasi divertente, ma il rovescio della medaglia è un po' anche drammatica. L'ambasciatrice Schmutz-Kirgötz con il velo coperta fino ai polsi in presenza di un alto esponente di Hezbollah, che è il partito di matrice possiamo dirla islamista militare, paramilitare, lei si è vestita per l'occasione e allora le voglio chiedere ma fino a che punto noi dobbiamo cedere sui nostri valori per poi poter costruire un dialogo con chi ha valori diversi dai nostri. Allora, secondo me la foto che lei ha visto, perché adesso mi dico appunto lei con tutti i suoi contatti con i nostri servizi secreti, la foto che lei ha visto dove avevo comunque dove mi sono coperta era con il leader massimo dei sciiti in Libano, in Libano dove ci sono 18 religioni diversi e dunque lui era una personalità religiosa, allora lì mi sono coperta anche per un atto di rispetto. Mentre con il Hezbollah che parlavo spesso e questa è una cosa bellissima perché la Svizzera parla con tutti, dunque ero una delle poche ambasciatrici di un paese occidentale che parlavo con il Hezbollah, mi mettevo le maniche lunghe ma non mi sono mai coperto la testa, però quando c'erano quelli religiosi sì, e secondo me è un segno di rispetto perché io sono a casa loro e vado da lui e tra l'altro è anche una bella storia perché l'ho visitato lui perché quando Alain Berset, il consigliere federale Alain Berset nel 2018 era presidente della confederazione e che è venuto per la visita statale in Libano lui ha espresso il desiderio di vedere tutti i rappresentanti religiosi, dunque tutti i 18, che non è una cosa facile e di fatti il mio collega tedesco mi ha detto questa è una mission impossible, noi l'abbiamo cercato di farlo noi tedeschi, voi non ci arrivate mai, ho detto ma noi non siamo tedeschi, proviamo, siamo riusciti, dunque era anche per dare il mio rispetto a lui che dopo lui era lì in questa riunione con il presidente della confederazione. E a proposito io mi ricordo un'altra fotografia se da una parte quindi ci si copre dall'altra parte si tolgono le calze vista in una tenda profughi in Libano sempre in Libano alla presenza di rifugiati siriani con Alain Berset allora presidente della confederazione seduti senza troppi formalismi ma anche quello è un formalismo alla fine bisogna comunque rispettare anche se si entra in una tenda ci si siede quindi si si togliono le scarpe in questo senso un ambasciatore deve essere capace di usare grandi protocolli quelli anche complicati ma anche in una tenda a profughi ci si siede così insomma e Libano ovviamente è un paese che ha segnato molto la sua carriera anche perché con il Libano lei era stata prima console generale in Turchia a Istanbul e in Libano è arrivato anche il titolo di ambasciatrice nel 2017 quello è un passo che conta nella carriera diplomatica il titolo di ambasciatore un po' conta un collega mio una volta ha detto la nostra carriera è un po' come il servizio militare non si entra come soldato e si vuole diventare generale ecco forse è quello però prima lei diceva vorrei un po' rimanere con quello che ha lei detto così così anche gentilmente non nei confronti di questa professione che dobbiamo essere capaci di fare del tutto io dico sempre la diplomazia è una chiave d'oro con la quale puoi aprire tutte le porte e poi se si ha una curiosità intellettuale questa chiave ti serve a scoprire tutto e il tutto può andare dai sindacati mi ricordo anche da giovane diplomatica in Turchia che andavo a vedere i mine workers quelli che lavorano sotto terra i minatori sì perché mi interessavano le loro condizioni dunque veramente poi con la Svizzera alle spalle dico sempre la nostra toolbox sarebbe la la casa degli attrezzi la cassetta degli attrezzi che ha a disposizione la diplomazia svizzera è molto più grande di tutte le altre la diplomazia svizzera spesso è al centro anche dei grandi eventi internazionali però non le piace la diplomazia svizzera vantarsi di essere al centro adotta sempre un po' un low profile che dà anche credibilità proprio sugli attori internazionali in Libano c'è stato un fatto ovviamente forse lei sarà anche stanca che i giornalisti e le persone continuino a ritornare alle 18.08 del 4 agosto del 2020 è un po' stanca di questa domanda relativa a questo episodio di estrema violenza quando stanca no perché però le posso le posso dire che sono comunque due anni che questo trauma perché un trauma è, ci ho lavorato e forse ci lavoro ancora mi dico che negli ultimi due anni siamo tutti diventati esperti di pandemia recentemente anche un po' esperti di guerra e io anche un po' un'esperta in how to overcome a trauma ecco dunque certo sì sì dunque di psicologia di elaborazione di un trauma sì sull'essere umano che sapevo prima che mi è arrivato tutto questo ambasciatrice adesso il pubblico forse non tutti conoscono con precisione questa data sono in sostanza esplosi non si è trattato di un attentato terroristico come ogni tanto impropriamente viene ricordato ma è stata la conseguenza di un mal governo forse dovuto anche alla corruzione che in Libano è imperante 3.000 barili di tonnellate di nitrato d'ammonio sono esplose provocando un'onda d'urto che ha travolto l'ambasciata svizzera e ha travolto lei che è una costruttrice di ordine col suo lavoro in fondo lei deve fare questo deve proprio evitare che l'umanità mostri il lato peggiore di sé invece si è trovata confrontata con il caos con tutto ciò che lei non vuole nella sua vita che ricordi ha su questa elaborazione del lutto è una cosa che ha superato superato lo spero e penso di sì comunque è un momento indiscrevibile poi l'hanno detto dopo che da Hiroshima e Nagasaki una onda d'urto così non c'è mai più stata e a Tene e a Cipro pensavano che fosse un terremoto invece no erano queste 3.000 tonnellate di ammonio nitrat che hanno esploso è vero che noi svizzeri probabilmente non siamo pronti ad affrontare una situazione così però l'abbiamo affrontata anche con il mio team che era straordinario e poi vorrei comunque anche se posso qui sottolineare che la Svizzera è stato il primo paese a mandare sopporto dunque subito il nostro aiuto umanitario hanno preso un aereo del Consiglio federale hanno messo dentro di tutto quello che avevamo bisogno per sopravvivere veramente per sopravvivere anche il tetanus no? eh certo e sono in Svizzera erano i primi a arrivare con team di supporto anche psicologico perché io ero ferita ma tutti eravamo totalmente traumatizzati perché tutti l'hanno sentita lei dice sì l'ambasciata c'era ancora la residenza era altra cosa la residenza era proprio distrutta però erano distrutte 400.000 abitazioni no? dunque sono sono quasi un milione di persone in Libano che sono state o rimasti vittime di questa cosa noi abbiamo una fortuna che siamo assicurati che c'è la confederazione che ci aiuta eccetera ma tante di queste persone hanno perso tutto e vorrei forse anche ricordare che fino ad oggi più di due anni dopo non c'è un colpevole e questo è uno dei problemi fatti del Libano e lei la corruzione l'ha menzionata e non devo dirne di più 220 morti 7.000 feriti in questo paese che era considerato il Libano prima della guerra civile la Svizzera del Medio Oriente poi anche una storia drammatica perché in quanto ex colonia poi c'è stata l'invasione di Israele nel 1982 lei è stata ambasciatrice in questo paese ha detto che come Svizzeri a volte non siamo abituati a confrontarci con certe realtà che segni lascia la storia quando è una storia di violenza ed è una storia di guerra civile sulla popolazione che interlocutori trovava come ambasciatrice nel suo lavoro quotidiano molto profonda questa domanda molto profonda poi soprattutto che lei ha descritto molto bene il Libano il Libano che non ha mai guardato la sua propria storia no? non ci sono ci sono 18 versioni diverse ancora oggi della guerra eccetera dunque un paese con tantissime ferite e penso che la nostra sensibilità e la sensibilità ce l'abbiamo assolutamente o anche nel Dipartimento degli Affari Estri Svizzero e poi con la nostra sensibilità dobbiamo capire abbiamo fatto anche tantissimo dealing with the past dicendo anche a loro guardate chi non conosce la sua storia non capisce il presente e non può neanche pianificare il futuro dunque tantissimi gli engagement svizzeri in questo Libano che ti ha una complicazione unica ma che dà anche tante belle cose devo dire invece la Turchia ha dato una bella cosa il cognome uno dei due cognomi all'ambasciatrice eh sì la Turchia invece che esperienza è stata da prima lei è stata ad Ancara e poi successivamente come console generale a Istanbul la Turchia che paese è? ma pensa quando io sono arrivata in Turchia nell'anno 2000 il nostro Cdp che sarebbe il prodotto interno l'ordono era più grande di quello della Turchia 2002 io poi accettai per due anni lo incontravo perché era un campagna elettorale 2002 è diventato presidente era una persona molto che si poteva incontrare eccetera e poi questo boom economico dunque la Turchia anche la Turchia è molto complessa la Turchia ha questo presidente che lì da 20 anni ma adesso vediamo perché ci saranno elezioni in Turchia anche l'anno prossimo comunque un paese che in 20 anni ha saputo a farsi notare senza la Turchia sembra soprattutto in questi giorni non funziona più niente e poi devo dire che è anche molto bravo diplomaticamente il presidente Erdogan perché Kuterres va a Istanbul sembra che quando c'è un po' di grano ucraino che riesce a essere esportato che sia tutto lui dunque lui ha saputo mettere il paese nel centro dell'attenzione e anche se stesso sono parole che ci portano in Turchia ovviamente però lei ha driblato diplomaticamente alla mia domanda io voglio arrivare al cognome il marito la famiglia il ruolo ovviamente di donna in carriera e madre eccoci bello anche questo e di fatti ho letto l'altro perché vorrei tornare un po' in questo Ticino che io adoro così tanto ogni tanto dicono ma tu sei l'ambasciatrice svizzera in Italia o sei l'ambasciatrice del Ticino perché ancora l'altra sera ho incontrato qualcuno in piazza Riforma e ho detto ma era un venerdì sera ho detto ma cos'è questo non forget New York io non so se è veramente molto animata adesso Lugano gli aperitivi sembra che tutto il mondo sia qui a Lugano adesso ho perso era semplicemente appunto il marito perché noi abbiamo parlato di donne tra l'altro la scenografia ci manda degli sguardi intensi di donne che hanno cambiato e lottato per cambiare i paradigmi il suo marito ha seguito lei e non lei suo marito questo è anche segno dei tempi che le cose cambiano che si possono accettare queste cose i sacrifici di solito non le donne a farle per la carriera del marito invece nel suo caso è andata al contrario l'ha fatto lui e se ne è fatto anche una ragione e secondo me a lui piace molto perché poi dicono cosa è turco tuo marito è turco musulmano e lui ti segue ogni tanto lui piace anche fare questo quando l'accenti ti dice ma lei cosa fa e lui dice io mi occupo di mia moglie in certe culture l'accenti rimane ancora poco aperto ma se questo è l'esito per fortuna di un mondo che parifica il ruolo di donna e uomo è stato anche grazie a delle lotte lotte fatte anche in Svizzera e ci sono stati dei film che l'hanno raccontata una lotta che andava verso il referendum del 1971 nel 1971 il mondo stava cambiando mentre da noi era come se il tempo si fosse fermato lottiamo per la liberazione delle donne ma io non ho bisogno di essere liberata è a causa delle donne come lei se non si va avanti che ne dici se tornassi a lavorare cosa c'è di più importante della famiglia non puoi andare a lavorare senza il mio permesso è la legge signore le donne in politica sono contro l'ordine divino no io sono a favore del voto alle donne per fortuna la sua opinione non conta nulla io sto con te con me con la tua lotta contro l'ordine divino un film svizzero simpatico è un bel film è un bellissimo film di Petra Volpe la regista lei se lo ricorda questo film? me lo ricordo ero alla prima mondiale se si può dire così la prima mondiale che adesso uno si immagina Cano Venezia Locarno Locarno soprattutto no era Berna era Berna c'era la regista poi c'era anche ancora una volta consigliere federale per sé perché ha la cultura e io ero lì non sapevo se ridere o piangere perché comunque è un pezzo della mia storia bellissimo è una dramedia infatti un po' dramma un po' commedia questo è stato cognato questo nuovo termine che unisce il dramma e la commedia però ecco nel mondo arabo questo film si può far vedere sì io l'ho fatto vedere e vorrei invitare tutti i telespettatori che ancora non l'hanno visto di guardarlo perché dove l'ha mostrato dove l'ha fatto vedere questo film all'ambasciata no al Parlamento Parlamento libanese sì allora in Libano sì in Libano c'è anche una commissione che si occupa dell'uguaglianza dei gender dunque è una commissione molto spinta che vuole che anche le donne siano allo stesso livello io con la presidentessa che aveva visto questo film in Francia che ha detto è bellissimo è fantastico ci siamo messi d'accordo che lo mostravamo l'8 di marzo nel Parlamento libanese e le reazioni come ci sono state allora non ho creato uno scandalo vero però certo chi ha visto il film sa che certe scene forse non sono per tutti i gusti e per tutti i contesti religiosi e certe persone si sono alzate e sono partite e sono partite beh ma riprova che lei è un'ambasciatrice un po' sui generi ogni tanto infatti giustamente bisogna anche mostrarle queste cose certo e non potevo farlo senza il counterpart libanese senza la presidente appunto della commissione per le donne in Libano perché da sola che coraggio insomma ma comunque ci tiene a lottare anche contro i luoghi comuni per esempio nel suo ruolo a Roma che effettivamente è il coronamento di una carriera penso andare a Roma c'è un video in cui lei presentandosi ai romani e agli italiani dice attenzione la Svizzera non è solo cioccolato banche e orologi ma è ben di più ma i cliché i luoghi comuni ancora resistono gli italiani davvero pensano che la Svizzera sia solo orologi banche a loro sono molto importanti e cari e va bene per la nostra industria cioccolato forse cioccolato e formaggio l'abbiamo va bene questo l'abbiamo superato quello che rimane ancora un po' è questa piazza finanziaria che ancora sembrano il banchiere svizzero il segreto finanziario questo rimane però quando io dico comunque siamo il paese più innovativo e competitivo al mondo ogni tanto ancora mi guardano ah sì dico sì in questo video tra l'altro lei riprendeva anche un concetto sulla neutralità ma non è il caso di parlarne è una neutralità che in Svizzera non significa indifferenza e nel dire questo lei citava il presidente Cassis Italia e Svizzera ovviamente sono due paesi che da anni da decenni da secoli insomma sono vicini di casa ci sono 800 km di frontiera quanti sono gli italiani in Svizzera e quanti di Svizzera in Italia frontiera che io amo dire unisce molto più di quello che divide allora gli italiani in Svizzera per rispondere alla sua domanda è un po' complessa la domanda perché l'ambasciata italiana Berna ne parla di 600.000 mentre noi di 300.000 perché noi non contiamo più quelli che hanno nel frattempo avuto anche la nostra cittadinanza e sono 55.000 Svizzera in Italia poi scambi commerciali a settimana mi sembra un miliardo addirittura e gli svizzeri acquistano il Made in Italy più di Cina India e Brasile messi insieme anche Brasile va bene ma lei come vive Roma questa città quando non è costretta fra un cocktail non deve andare alla Gazzetta dello Sport a commentare Italia Svizzera o non deve andare in Sardegna da Paolo Truzzo sindaco di Cagliari o a Matera a tenere un Alexio Magistralis o alla Camera di Commercio come vive la città nel tempo libero Roma questa città meravigliosa che ha anche degli architetti ticinesi assolutamente ci sono anche molto dominanti e me ne rallegro la vivo devo dire che tempo libero ce n'è poco però quando ce l'ho ho vado a visitare qualcosa una cosa che mi piace tantissimo e lo fanno anche i romani per i romani sono studenti di storia d'arte che fanno queste visite guidate stile sotto la piazza Navuna mi piace tantissimo fare questo e poi lo sport lo sport scarpe da ginnastica e via e poi correre che è un po' la mia cosa per lungo il Tevere nei parchi dove tutto questo l'ha detto tutto lungo Tevere e poi nei parchi che sono poi vicino lì dove c'è l'ambasciata eccoci noi stiamo arrivando verso la conclusione di questo nostro incontro e scusandomi ancora per la pronuncia un po' storpiata del suo cognome e del turco Iachino anche apprezzato come ha pronunciato Murat Iachin ecco ma dobbiamo ricordare ambasciatrice che venerdì 21 ottobre a Zurigo succede qualcosa ah si succede il forum Italo Svizzero una bellissima cosa che è stata creata nel 2013 da Bernardino Regazzoni che era ambasciatore svizzero a Roma di cinese dal presidente del festival del film di Locarno Marco Solari e di Luca Caracciolo che tanti penso conoscono in Ticino che è anche il direttore e il fondatore di Limes questa rivista geopolitica assolutamente straordinaria questo forum Italo Svizzero che adesso arriviamo alla sesta edizione che veramente appunto lei l'ha detto 800 chilometri frontiere c'è una cultura in comune poi i scambi poi la fiscalità tutto 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 mentre lì andiamo oltre andiamo oltre tutto quello che uno si possa immaginare nei scambi di questi due paesi se non sbaglio uno degli argomenti è da Dante a FinTech Dante c'è sempre anche Silvio Mignano che avevamo ambasciatore d'Italia in Svizzera boxeur tra l'altro è grande esperto di Dante è grande esperto di Dante Dante c'è sempre quando c'è fra questi convegni italo-svizzeri Dante viene sempre citato il padre della lingua parliamo anche ovviamente in Svizzera una delle lingue nazionali e il 21 ottobre quindi ci sarà questa giornata con Mattarella che farà un suo speech e anche il nostro presidente anche il nostro presidente va bene io con voi come media partner e me ne rallego molto appunto bellissimo noi siamo arrivati davvero alla conclusione di questo nostro incontro ambasciatrice ringrazio di cuore per aver trovato grazie mille di averci dedicato del suo tempo e forza con il jogging anche a Roma grazie mille e la lotta per le donne grazie a voi per essere stati in nostra compagnia ci rivediamo la settimana prossima con un'altra edizione dello specchio buona serata lo specchio con tamborini vini e la sua vinoteca con un ampio assortimento di prodotti per ogni gusto tamborini vini lamone con un'altra edizione grazie mille grazie mille